Salve a tutti, eccoci ad un nuovo video utile per terminare tutti i quesiti del concorso A028 che si è tenuto il 6 luglio di mattina. Piano piano sto svolgendo tutte le tracce, ovviamente per quanto riguarda voi che mi seguite fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti, se ancora non l'avete fatto potete iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati relativamente a tutti i video che usciranno, perché soprattutto attivando una campanellina, c'è una campanellina, io non la riesco a disegnare, non sono bravo, automaticamente vi arriverà la notifica del messaggio nuovo. Abbiamo la domanda 26, vi ricordo siccome qualcuno me lo ha chiesto, non per forza la domanda 26 che sto svolgendo io corrisponde alla vostra 26, una volta poi che le avrò affrontate tutte, ovviamente voi le ritroverete tutte. Una reazione caratterizzata da una variazione di entalpia negativa da un punto di vista termodinamico è, anche qui se vi fa piacere, vi devo anche il mio punto di vista relativamente a questa traccia, sicuramente nella scuola secondaria di primo grado la termodinamica non viene affrontata. Quindi anche qui si viene fatta una prova di natura nozionistica nei confronti vostri, però su argomenti che sicuramente fanno parte di tutto l'allegato dove c'è, vengono inserite insomma gli argomenti di studio, però ovviamente questo non è lo stesso poi delle indicazioni nazionali, cioè del programma che poi viene eseguito in matematica e scienze alle scuole medie. Un'altra cosa che spero insomma vi faccia piacere è che non mi limiterò a rispondere alla domanda perché essendo anche un modo per esercitarsi cercherò anche magari di dare delle spiegazioni approfondite in merito alla domanda. Allora intanto l'entalpia la possiamo chiamare H, generalmente è chiamata H, è una funzione termodinamica ed è pari alla somma tra U e il prodotto PV. Questo accade quindi è la somma dell'energia interna di un sistema fluido, questa qui l'energia interna di un sistema fluido, è il prodotto della pressione per il volume, questo quando si considera un sistema fluido. Poi possiamo dare anche un'altra definizione, questo per un fluido, per un glass perfetto, possiamo dire che l'entalpia H è pari a U più Cpt, dove U è sempre la costante dell'energia interna, Cp è la capacità termica, pressione costante, ecco perché P, e T la temperatura termodinamica. Adesso è giusto anche dare menzione insomma di quello che è scritto qui, endotermico, a termico, esotermico, spontaneo. Cominciamo con la risposta corretta che è esotermica. In termodinamica viene definito processo esotermico una trasformazione, questa è la risposta giusta, che comporta un trasferimento di calore Q che va dal sistema, il calore va dal sistema all'ambiente. Adesso andiamo anche ad approfondire. Allora, quando una trasformazione è anche isobara, quindi si lavora, c'è una trasformazione a pressione costante, sicuramente ad una entalpia negativa, sicuramente vi è una reazione esotermica. Quindi, quando la trasformazione è esopera e diminuisce l'entalpia, sicuramente, quindi scriviamo così, l'entalpia diminuisce, segue. Poi, un processo esotermico è chiamato anche un processo esoergonico, cioè durante il suo svolgimento viene liberata energia. In questo caso, in forma di calore che passa, come abbiamo detto, dal sistema all'ambiente. Se il calore è scambiato e sotto forma di calore sensibile, al processo esotermico risponderà anche un aumento di temperatura dell'ambiente, mentre se il calore viene scambiato sotto forma di calore latente, si avrà un passaggio di stato. Quindi, non è detto che aumenti la temperatura, ma, come ben sapete, questo calore può anche, ad esempio, far passare dalla... Per esempio, far avvenire la liquefazione o l'ebollizione. Ricapitolando, diciamo che in linea di massima potete sempre affermare questo, che è una variazione delta H di entalpia negativa, quindi minore di zero, viene sempre associata a una reazione esotermica. Viceversa, se fosse stata maggiore di zero, sarebbe stata endotermica, ovviamente col calore che passava dall'ambiente al sistema. Giusto per completezza, facciamo anche alcuni esempi di processi esotermici che magari verranno richiesti al prossimo concorso. La combustione La condensazione del vapore acqueo in pioggia, ad esempio Il congelamento dell'acqua in ghiaccio, ad esempio la miscelazione di acqua, acqua miscelata con acidi forti, la fissione nucleare E anche la neutralizzazione Benissimo, fatemi sapere se vi piace questo approfondimento per ogni domanda e adesso passo alla successiva e magari sarò più rapido e farò meno approfondimenti Anche perché poi, ovviamente, potrò inserire nuovi video di approfondimento Ok, leggiamo insieme La 27 è un evento franoso definibile come frana di collo, coinvolge e si verifica più frequentemente in Allora, facciamo delle premesse Intanto per frana indica, si intende un movimento o la caduta di una massa di terreno o di roccia ovviamente a causa della forza di gravità Le frane possono avere molte caratteristiche e possono anche essere molto diverse sia per quanto riguarda il materiale convolto che il tipo di movimento Sia per quanto riguarda la loro estensione e la profondità sia per la loro velocità e durata Allora, la frana di crollo generalmente consiste nel distacco improvviso Ha detto che è anche improvviso, quindi il tempo è molto breve di rocce compatte su pareti molto ripide quindi masse di roccia disposte su pareti ripide che vengono anche chiamate scarpate Il movimento iniziale ha come componente principale la caduta verticale verso il basso Finché il materiale non raggiunge il versante e da avere dopo l'impatto o rimbalzato o rotolato Come avviene il crollo? Si attua quando la resistenza al taglio è una proprietà quindi della roccia, del materiale della roccia in questo caso lungo una superficie diventa minore del proprio peso e quindi tale resistenza non ce la fa più a sopportare il peso e quindi vi è una estrema rapidità di caduta e il deposito conseguentemente alla frana è un accumulo al piede del pendio di materiale di diversa dimensione e in funzione anche delle caratteristiche fisiche del versante Ok, ci ritroviamo alla 31 Vi ricordo che i quesiti di chimica essenzialmente non li svolgo perché non sono in grado Potrei chiedere a qualche collega però per ora non mi va di disturbare nessuno E quelli in inglese invece Infatti sono arrivato al 31 perché vi erano quesiti di chimica inglese e quelli in inglese invece li rimando ad altri video Vediamo qui Abbiamo fatto tantissime esercitazioni di questo tipo Prima del concorso Un sacchetto contiene 200 palline il 25% nere e le restanti bianche quindi il 75% bianche Il 20% delle palline nere quindi il 20% del 25% e il 40% delle palline bianche sono di bronzo Le restanti sono di stagno Estrendo una pallina a caso qual è la probabilità? Che questa sia di bronzo Ricordatevi come si calcola la probabilità Ok, la probabilità è il rapporto tra i casi favorevoli e i casi possibili Allora dobbiamo vedere i casi favorevoli che sono determinati dal numero di palline di bronzo Quelle di bronzo nere sono il 20% del 25% di 200 quindi 20 centesimi per 25 centesimi per 200 che dà proprio 10 Quelle bianche abbiamo detto vi faccio qualche passaggio in più se le nere sono il 75% le restanti sono bianche sono il 75% e di esse il 40% sono di bronzo quindi 40 centesimi per 75 centesimi per 200 fa 60 A questo punto il numero totale di palline sono 60 più 10 sui casi possibili che sono 200 quindi 70 diviso 200 dividiamo tutto per 10 7 ventesimi questa è sicuramente la risposta corretta Ok, andiamo avanti Per me la domanda è 32 Per voi non so qual è stata Le onde sismiche attraversano le formazioni rocciose con una velocità che dipende Allora, la velocità delle onde sismiche quindi la velocità di propagazione delle onde sismiche nei diversi corpi quindi ancora non parliamo delle qui ci chiede di formazioni rocciose dipende essenzialmente riconducibile a due fattori 1 e 2 dalla la chiamo ρ dalla densità del mezzo attraversato e dalle costanti elastiche del mezzo chiamate anche costanti elastiche di lame specificatamente alla velocità delle onde sismiche rocciose essa dipende dalla densità della roccia stessa e diciamo che i valori tipici sono dai 4000 sono valori molto elevati metri al secondo ve lo dico nel sistema internazionale di misura se moltiplicate per 3,6 potete fare un'equivalenza in chilometri orari a circa a un massimo di 6 mettiamo 7000 metri al secondo per le rocce più dense e compatte rocce igne e metamorfiche va bene con questo io vi ringrazio sono contento di essere arrivato a metà dell'opera che mi sono prefisso di portare a termine questo è solo un viaggio che sto facendo con voi perché per ora sto cercando di proporvi perché ovviamente il metodo risolutivo è soggettivo di proporvi delle mie i miei passaggi risolutivi quindi come io avrei risolto il concorso ovviamente approfondendo ogni domanda per i motivi di cui vi ho parlato tante volte ci tengo a sapere cosa ne pensate e ovviamente poi nulla toglie è possibile insomma risolvere le altre prove della 028 o andare sulle altre classi di concorso a 026 027 a 020 a 041 non sono capaci vi ringrazio vi auguro una buona continuazione di giornata un caro saluto da Francesco Samani a 026 a 026 a 026 a 026